Continuano i fine settimana dello Sciclè Bammatese sulla neve di Bocca della Selva e Monte Orso, fra paesaggi mozzafiato che la natura ci regala in questo periodo di restrizione dovuto al Covid. Quando è possibile diventa davvero un motivo per evadere e per visitare, per chi ancora non li conoscesse, luoghi incantati e suggestivi che ci invitano tutti. E' proprio grazie allo Sciclè Bammatese che in modo disinteressato è capace di organizzare delle straordinarie giornate anti-stress sulla neve che ti costringono poi inevitabilmente a ritornare. Noi abbiamo sentito Netta Antonucci, responsabile provinciale UISP della montagna e istruttrice sociale dello Sciclè Bammatese e sentite che cosa ci ha detto. Lo Sciclè Bammatese anche quest'anno ha una sua programmazione. Continuiamo il sabato e la domenica a Bocca della Selva a proporre attività amatoriale e promozionale nella pista sprint che tracciamo appunto a Bocca della Selva. In settimana invece siamo a Monte Orso, sui pianori di Monte Orso, della zona qui appunto del Pianellone e degli altri pianori carsici per promuovere poi quella che è realmente la sciata libera, bella, abbondante e poi la nostra attività in ciaspola. Anche per chi non si è mai avvicinato alla neve o non ha conoscenza pratica dello sci può tranquillamente trascorrere momenti in montagna utilizzando le ciaspole. È uno sport alla portata di tutti e un grandissimo benessere psicofisico. Basta prendere contatto dunque sulla pagina Facebook dello Sciclè Bammatese e prenotare l'escursione per vivere una giornata in relax nello straordinario scenario naturale di Bocca della Selva in Monte Orso. Buon fine settimana da Bocca della Selva da Lorenzo Applauso per casertasera.it